ok però non è entrato è tutto fermo è per quello che c'ho paura perchè non voglio che entro trago allora no infatti più che passatempo cazzo se non albi è entrando presente baionetta di albi è entrato è entrata baionetta merda beh brutta per 100 olvor è finito HAI VITO HAI VITO HAI VITO DIGI 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 è l'asimo è l'asimo è ancora guarda DIGI 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 DIGI